salve a tutti oggi scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate del segreto che vi ricordo vanno in onda ogni domenica a causa delle percosse prese da suo marito marta perde il bambino che portava in grembo una notizia triste che sconvolge l'intera famiglia solo zabal ramon tenta di insabbiare tutto ovviamente non confessa di aver picchiato sua moglie ma racconta che marta è caduta accidentalmente manuela e begogna non gli credono ed è proprio la moglie di ignazio a vendicarsi uccidendo suo genero begogna però non nasconde quello che ha fatto anzi dell'assassinio di ramon mette al corrente tutta la famiglia nessuno di loro dovrà denunciarla ma dovranno solamente aiutarla a far sparire il cadavere facciamo una grandissima scoperta su donna francesca una sera don filiberto incontra tra le vie di puente vieco tre componenti della congrega degli arcangeli tutti incappucciati e con le tuniche tra di loro c'è anche il leader che invece indossa una tunica nera filiberto resta solo con il capo degli arcangeli che si tira giù l'enorme cappuccio e rivela la sua vera identità e donna francesca il parroco è sconvolto e resta senza parole non si sarebbe mai aspettato una cosa simile la montenegro l'ora serena è stata lei a dar vita a questa associazione e ciò che vuole da filiberto è che lui diventi il suo braccio destro al parroco ordina di piazzare una bomba alisia è stanca e stufa di vivere nel terrore per questo decide di rivelare a tutti gli abitanti di puente vieco quello che le sta accadendo da giorni sta ricevendo terribili minacce don filiberto subito si mostra in disaccordo nei suoi confronti puente vieco viene attaccata da alcuni banditi uomini armati con il viso coperto emilia si trova in mezzo alla rivolta viene spintonata perde i sensi e cade al suolo la donna viene soccorsa subito da mattias mauricio tibursio e dolores i quali però chiamano un medico affinché la visiti il dottor clemente però proprio dopo la visita consiglia ad emilia di recarsi in ospedale per accertamenti più approfonditi la donna però nega non vuole che il suo segreto venga allo scoperto